buongiorno popolo dei senza nome sono ovviamente io e oggi sono qui per rispondere a un po delle vostre domande ovviamente farò del mio meglio non essendo io ovviamente uno sviluppatore e non parlando proprio così come dire in amicizia con gli sviluppatori però ci sono alcune cosette che secondo me dovete abbastanza sapere di prepotenza e ci sono altre cosette per le quali ci vorrà solo un po di beata pazienza onestamente quindi per lo sapere leggere e scrivere iniziamo questo nuovo episode di questions and answers madonna come siamo inglesi oggi madonna santa su ovviamente snow runner 11 giorni fa signore e signori vi avevo chiesto di elencarmi quelli che sono i vostri dubbi le vostre perplessità le vostre problematiche riguardo a questo titolo favoloso offroading ovviamente è meno favoloso perché ha problemi perché capisco la frustrazione l'ho appena vissuta sulla mia pelle con quel benetto star citizen che avevo promesso di portare in live ovviamente su twitch e in realtà non si può manco portare perché è uno stronz è uno stronz ok sono degli stronz robert space è uno stronz ma non so neanche se fidarmi onestamente ma la differenza è abbastanza semplice star citizen se non conoscete è un titolo che ha un budget a 300 milioni in sviluppo ormai da 10 anni snow runner è uscito un po' di tempo fa e non lo giustifica assolutamente il fatto che ci sono delle problematiche però ovviamente se per interactive ha fatto sempre dei grandi giochi quindi confido che anche questo sia ovviamente un grande gioco e che le problematiche vengono risolte tutte le problematiche verranno risolte non lo so perché non so mica un guru signori però quello che so è che se c'è una domanda alla quale posso rispondere lo faccio di potenza ed è per quello che vi ringrazio per il supporto siamo a 14.000 e allora facciamo questo piccolo chiamiamolo speciale in realtà di snow runner iniziamo dal fatto che sulla mia scheda community sul canale youtube avevo chiesto di chiedermi di oh che cosa appena detto vabbè ho chiesto di pormi delle domande i vostri dubbi le vostre perplessità perché la terra gira il senso orario perché l'orario gira il senso della terra perché mike indossa sempre il cappellino queste sono domande che appunto la gente si pone quotidianamente quando potrò tornare al mare beh con tutti questi quesiti io risponderò solo alcuni ovviamente quelli più essenziali e non riguardano il cappellino ma torniamo con il primo ovviamente di fabrizio che ci chiede non so come essere potente come mike non penso sia possibile allora ragazzo allora ragazzo devi essere nato un po di tempo fa vivere nel veneto dove il veneto è dalle alpi in giù ma dire la verità mi sembra che il veneto abbia trapassato le alpi perché siamo anche in svizzera in australia in scozia siamo finiti a per tutto quindi devi essere semplicemente te stesso autentico e virile e così un giorno forse sentirai la potenza che cresce non so cosa fare nel momento in cui mi capovolgo per errore con un camion motore in affaria e poi esco senza salvare con la faccia triste madonnina santa madonnina santa cioè se ti ribalti con un camion porta un altro camion e cerca di non ribaltarti con l'altro camion capito? no l'essenza sarebbe che prendi un altro camion e vai con una gru lo tiri su o col vericello lo tiri su essenzialmente questa sarebbe l'essenza giustamente se no esiste anche il metodo easy usando ovviamente il d-pad verso l'alto se giochi con un controller dove fai una cosa del tipo beh non c'è molto da fare fai recupera la prossima domanda è arrivata al video giocatore solitario perché sei solitario? sei tutto qua insieme a noi circondato alla potenza come fai ad essere solitario? bananone che non sei altro mi domandavo se i volanti con la versione pc fossero compatibili allora signori questa cosa ovviamente è risaputa questa è la patch 5.0 quella che dovrà uscire e vediamo subito che nelle impostations del volante abbiamo il Giro del 120, G29 quello di Farming, il Cytec Farm Sim Controller Trasmaster TGT, T80, 150, 300 insomma Ferrari 458 qualche Fanatec addirittura per la Playstation e per l'Xbox quindi ci sono un sacco di volanti che saranno compatibili e verranno introdotti appunto con questa patch quando verrà rilasciata? quando verrà rilasciata la patch? non ne ho idea ieri ad esempio sul test server hanno fatto un aggiornamento di quasi 2 giga 2 giga al gioco di base quindi gli aggiornamenti li stanno sistemando, stanno facendo cose probabilmente uno o due video ancora sul canale saranno sul PTS sul public test server si chiama che tra l'altro se giocate al computer potete accedere voi stessi e però ripeto i salvataggi non vengono tenuti quindi non ha molto senso a meno che non vogliate provare le cose in anteprima e questo ovviamente ci porta un'altra domanda di Milo che ci chiede perché i volanti non sono compatibili su Playstation 4 signori? semplicemente perché non sono stati abilitati a dire la verità in una versione abbastanza initial se non ricordo male sulla play erano stati abilitati ma successivamente visto che non c'era force feedback e non c'era senso che esistessero beh li hanno rimossi come andranno a finire le cose signori? le cose andranno ovviamente nel senso che molto semplicemente esiste PC PTS versione test server e poi le console ovviamente faranno prima gli aggiornamenti sul PTS testeranno vedranno che sia stabile lo butteranno sulla versione PC ufficiale versione PC ufficiale verrà convertita molto probabilmente sulle console non sono un programmatore ma a rigor di logica dovrebbe essere più o meno così non è che ti metti a programmare le stesse cose a trovare bug per le console dalle console cioè da servire di test prima ti sei sicuro che funzioni una roba e dopo cerchi di convertirla introducendo ovviamente altri bug quindi ecco la problematica del perché la playstation 4 l'xbox e via dicendo sono indietro perché ovviamente molti dicono ma Mike danno una precedenza al pc danno una precedenza al pc signori sì danno una precedenza al pc perché probabilmente del loro pubblico maggiore la fetta maggiore del pubblico che hanno avuto finora è stata su pc madrunner io non ho esperienza e non mi ricordo ma madrunner è uscito sulle console ok ok sì la risposta è sì la risposta è sì madrunner è uscito sulle console però anche in quel caso se mi ricordo bene aveva problemi con volanti periferiche torniamo a noi sulla playstation 4 Dario ci chiede esiste un dannato modo per inserire cruise control tipo farming no mi è stato detto durante una live dai miei potentissimi fans che in realtà c'era la possibilità sul vecchio mettendo la marcia manuale che praticamente lui accelerasse e andasse in maniera costante ma da quello che so sulla nuova versione non c'è nessun cruise control e quindi devi andare avanti a mano a mano molto normalmente tranquillamente Niccolò come si aggiunge la mod quello lascio verso la parte finale del video come si aggiungono le mod ma perché il gioco mi crasha sulla play 4 anche alcuni è capitato ho perso tutti i dati allora signori purtroppo questa cosa per i dati è una rottura di balle c'è stato anche un buon caro edani qua ovviamente uno di voi prepotente che mi ha detto che quando mi ha fatto l'aggiornamento non riusciva più a recuperare non riusciva più a rientrare nel suo vecchio salvataggio e queste sono cose che sono bruttissime orribili sulla versione pc vi posso far vedere come fare il backup dei salvataggi a patto che ovviamente poi siano compatibili ma sulle console non lo so tecnicamente dovrebbe essere la possibilità di salvare e fare i salvataggi magari su una chiavetta non lo so è un'idea che forse magari vi lancio lì provate a vedere e informarvi Umi ci chiede a cosa servono i quadri tratteggiati rosso che di solito si vedono ovviamente vicino alle zone di carico e sono quelli dove spawnano le cose da tirare su con la gru a mano a mano ho visto alcuni video e mi sono chiesto se i trattori siano mod o no ci dice Francesco e sì i trattori sono mod non sono all'interno del gioco quando c'erano le mod per console probabilmente tra qualche mese nel senso che da quello che so verranno rilasciati gli strumenti per aggiungere sistemare modificare mod quando ci sarà ovviamente la prima fase del season pass tecnicamente era programmata a un paio di settimane o forse un paio di mesi di sto passo non si capisce neanche più cosa vogliono i sviluppatori capito se uno ti dice che il gioco deve essere rilasciato il 22 porca miseria per fare la settimana dei test eh star citizen e poi arrivi al 23 a metà giornata e ancora è stato rilasciato e sta passando la settimana dei test uno tira le bestemmie ecco quindi la risposta è non ne ho idea ma probabilmente quasi sicuramente tra un mesetto più o meno non avere fretta non avere fretta come si installano le mod ancora ovviamente mi chiede Luca e anche Andrei mi chiede la stessa cosa quindi verso la fine del video parliamo di questo non sono mai riuscito a bucare una gomma qual è il metodo migliore visto che c'è un achievement in cui se non ricordo male bisogna fare un chilometro con tutte le ruote bucate beh la cosa più semplice da fare sarebbe quella di usare il camion all'inizio partita quello che è il flitzar quando è a terra e farsi un chilometro così ma la cosa più semplice che mi viene in mente è semplicemente correre come dei pazzi fino a praticamente passare sopra le rocce e in quel modo lì si bucano le gomme si distruggono le gomme e una due e tre non è molto immediato come processo ma si fa così ci sono mod per playstation mi chiede Pozzo e la risposta è non ancora uscirà mai una versione di steam allora signori se considerate che c'è un accordo di un anno tra SnowRunner e l'epicstore la domanda ha una risposta abbastanza semplice è probabile che succeda tra un anno da adesso e perché tra un anno beh perché come ben sappiamo c'è il season pass che appunto lega il gioco all'epic quindi si di nuovo non è niente di scritto nella pietra però penso proprio che sia così e ovviamente Freepower dice ma dove sono le donine se fosse un simulatore perfetto dovrebbe succedere donine svestite in ogni camion e figuriamoci in officina sotto questo punto di vista non possiamo dargli d'orto ma evidentemente il nostro autista è un uomo fedele alla potenza infatti ha una fede al dito l'altro invece secondo me se la fa con l'orso siberiano parliamo di Vadim l'autista russo ma c'è anche un altro commento che vorrei usare per concludere questa parte di Q&A dove Sventu mi ha chiesto praticamente qualche giorno fa perché secondo te non aggiornano niente per le console manco si accendono i fari quando li accendo i carichi con P&A entrano con i pianali eccetera eccetera sulla Play 4 la Play 4 è stata praticamente abbastanza un martirio dall'inizio del gioco e purtroppo mi dispiace che sia così la situazione ma non credo che sia una questione di non aggiornare per niente le console su computer penso siano due settimane ormai che non vediamo un aggiornamento hanno tirato fuori questo test server e stanno lavorando su quello e poi uscirà una versione completa su quello che è appunto il PC io ho già detto in maniera abbastanza ironica e spero che la gente lo capisca che adesso che possiamo uscire un po' dalla quarantena che siamo usciti dalla quarantena magari andate a fare un giro e lo so che non è bello però piuttosto che incazzarvi perché perdete del tempo e poi perdete dei progressi credo che sia la cosa migliore da fare insomma perché non si può bestemmiare dietro a nessuno a meno che non prendiate il gioco e lo buttate in eccesso mountain bike cross trail mi chiede ciao Mike quando aggiungeranno le mod e il volante per console beh penso di aver già risposto a entrambe le domande come dire precedentemente e quindi si va benissimo così ciao Olmo Corti visto che l'hai scritto Matteo mi chiede come si fa a fare una capriola a 360 beh ragazzo non è molto difficile vai dritto davanti e giù da un diruppo che è dislivello appena vedrai che il muslo tocca per terra probabilmente il culo si ribalta quindi complimenti hai appena fatto una capriola a 360 adesso un paio di trucchi signori per coloro che appunto mi chiedono Mike come si fa a gestire la pressione no in realtà non c'entra niente è una cosa molto facile signori una cosa molto banale prima di ogni partita o alla fine di ogni partita prima che esploda tutto e inizia a bestemmiare beh bisogna farsi furbi questa è l'essenza quindi per farsi furbi io ho deciso esattamente di fare questo andare su documenti ok dove cacchi me l'ha aperto da quest'altra parte oh banana da questa parte stavo dicendo andare su documenti quindi nella cartella my games andare su snow runner e entrare nella cartella base quando siamo nella cartella base abbiamo abbiamo un ciccino di cose vedete io ho ovviamente un po' di mi sono creato una nuova cartella con gli archivi dei salvataggi qua ho praticamente tutti i salvataggi di snow runner dalla prima live che ho fatto su twitch alla fine delle ultime live a praticamente quando sono crashato tutta una serie di cose ok in modo che se c'è bisogno posso ripristinare la cosa con la nuova patch che uscirà permetterà di avere più profili per salvare le cose ma nel frattempo ho dovuto improvvisare e quindi la cartella storage è quella che ci interessa in maniera molto banale se facciamo un bel clic destro e facciamo qualcosa come add to archive alcuni di voi avranno 7-zip altri winrar decidete voi ma aggiungete un archivio aggiungi un archivio non toccare niente dagli un nome e quindi questo è lo storage prova ok fantastico e quindi eccolo là ci fa un archivio e adesso abbiamo lo storage prova questo è il nostro backup se noi andiamo giochiamo e lo storage ci viene danneggiato beh mettiamola così possiamo venire qua fare clic destro e fare extract here estrai qui e lui mi dirà ma banana ma ci sono già dei file che hanno lo stesso nome tu non ti preoccupare estrailo e teoricamente se è stata fatta la cosa giusta praticamente non ve ne siete neanche accordi perché lo stesso file storage è stato già sovrascritto chiaro bene fantastico ottimo morale della favola così si fanno i backup dei salvataggi ovviamente prima della 5.0 prima della vera possibilità di avere diversi salvataggi così si fa anche si risolve il problema del cliccare per sbaglio una nuova partita signori perché se voi ogni volta che giocate e fate un salvataggio voi potreste anche eventualmente giocare diverse partite voi vostro fratello vostro cugino è così sul stesso computer e adesso ovviamente concludiamo parlando di come salvare signori le mod come installarle come come giocarci con le mod beh in realtà ci sono vari sistemi alcuni implicano andare a mettere le mani dentro alcuni file di sistema che noi non vogliamo ovviamente vedere perché sono per robe un po' più avanzate capito implica aprire vari archivi modificare alcuni archivi alcuni file interni e sono abbastanza inciucciati sicuramente ci sono guide di quelle ma basta andare ovviamente su mod quando andiamo qua possiamo vedere che alcune rotelle girano altre girano abbastanza all'infinito è un bug tanto per cambiare così come è un bug il fatto che non rimangono su sì questi benedetti bananoni ok chiaro fantastico come si fa a far sì che funzioni tutto quando siamo ovviamente nella stessa cartella su documenti my games snow runner base beh abbiamo una cartella mods e abbiamo una cartella mod io perfetto mod io come sapete è il sito da dove si scaricano le mods che nello specifico è esattamente questo noi per installare una nuova mod teoricamente senza fare troppi casini basta selezionare ovviamente la macchinozza e fare subscribe to install ottimo fantastico vero il problema è che se ci sono le rotelle che girano non sempre funziona tutto a dovere quindi quello che si fa è venire qui nella cartella mods e cancellare completamente mods.io la cancelliamo non vogliamo più vederla morale della favola signori adesso lui tra l'altro sulla pagina di mods.io dovete assicurarvi che il vostro indirizzo l'indirizzo che state usando sia ovviamente lo stesso che andrete a mettere nel gioco quindi soprattutto la cosa più importante è l'indirizzo email che avete messo quindi mod.io andate sul vostro personaggio andate su edit e avete l'indirizzo email l'indirizzo email deve essere per forza quello che è all'interno del gioco quindi adesso che ho cancellato la cartella mods.io dentro la cartella mods ok questo è l'indirizzo perfetto fantastico avviato ovviamente il gioco ci troviamo nel menu andiamo su mod e ancora una volta ci chiederà come la prima volta inserisci l'indirizzo beh noi mettiamo ovviamente l'indirizzo che abbiamo usato precedentemente autenticazione mi chiede ovviamente un codice di verifica che è stato inviato al suddetto indirizzo quindi lo inseriamo ovviamente ci fa l'autenticazione e quindi benvenuti nel community bam 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 e adesso teoricamente i due account sono collegati e dovrebbe scaricare quelle che sono appunto le mod che noi abbiamo sottoscritto sul sito come funziona questa cosa le rotelle girano per un po' a volte dovete lasciare un ciccinino perché molte di quelle mod hanno centinaia di megabyte lo vedete direttamente sulla pagina internet e quindi dovete lasciarle un po' uscire dal gioco e rientrare questo è il metodo diciamo base per installare le mod non voglio entrare in quello avanzato perché implica andare a modificare dei file di gioco ma anche in quel caso signori se andate a modificare i file di gioco fatevi sempre e dico sempre una copia di backup sempre se ci dovessero essere problematiche beh la procedura da rifare è essenzialmente la stessa cancellate la cartella mods reinstallate la cartella mods e soprattutto assicuratevi perché io lo stavo sbagliando questo signori assicuratevi che l'indirizzo che mettete nel gioco sia lo stesso dell'account che avete sul sito potrebbero essere anche degli indirizzi sbagliati diversi quindi il gioco non comunica per niente con il sito detto questo ovviamente adesso gli do un ciccino di tempo vede quello là il crasher boss è pronto ok me l'hanno scaricato questo vuol dire è comparso di prepotenza teoricamente anche gli altri ci metteranno un ciccino a scaricare come vi stavo dicendo ma per non sapere scrivere io direi che concludo qua questo episodio diverso da tutti gli altri e vi do appuntamento ovviamente di prepotenza dalla prossima puntata ovviamente nel frattempo statemi potenti signore e signori io sono Mike Senzanome e quindi ciao ciao